La Giunta del Comune di Fano ha modificato il testo del provvedimento che porterà in Consiglio Comunale a fine mese che prevedeva il divieto di fumo su tutto l'arenile, ombrelloni compresi, oltre che bagnasciuga e acque antistanti. Partito lancia in resta, mettendo giù un documento ancora più restrittivo di quello varato a Pesaro, ha però in queste ore tirato un po' le briglie e frenato la corsa, sollecitato dalle associazioni di categoria che vedevano questo provvedimento, concedeteci il gioco di parole, un po' come fumo negli occhi, preoccupati di poter scontentare una vasta fascia di clientela che vede nella sigaretta un momento di relax, ignorando, però quanto dice tutta la comunità scientifica e medica dai numerevoli anni, e cioè che il fumo di sigaretta è responsabile da solo del 30% dei decessi per tumori in Italia. Cosa ne pensa del fumo sotto l'ombrellone della sigaretta? Io non fumo, quindi sono contraddissimo, e poi ho un po' d'asma, vengo qui al mare per curarmi dall'asma, l'aria buona, quindi sono contraddissimo. No, non sono per niente d'accordo, è questione di rispetto per chi ti sta accanto, è un luogo pubblico, non andrebbe accesa neanche l'idea di fumare. Comunque il vento te lo porta anche sui bambini, sì, sono qui che giocano, l'altro di fianco ti fuma e tu te lo respiri completamente tutto. È giusto per i maleducati che buttano le cicche in terra, ho anche amiche che sinceramente lo fanno, io prendo e lo butto qua. Però diciamo siamo in un luogo all'aperto così, certo in acqua no, assolutamente, o cicche nella sabbia, è una cosa atroce. Comunque vabbè, se dovesse succedere vorrà dire che prendiamo la nostra sigaretta e ce ne andiamo a fumare in un posto dove non è vietato fumare. Abbiamo avviato un confronto dopo averla letta perché ci eravamo accorti che su alcuni punti era un po' troppo restrittiva questa delibera. Quello che ci ha preoccupato più di tutti è stato il fatto che la paura nostra era quella che si andava un po' troppo a precludere la libertà dei turisti, tant'è che quasi tutti gli stabilimenti hanno i posaceni agli ombreloni, chi non li ha ancora si sta già adoperando proprio per permetterli e lasciare quindi la libertà del turista di potersi fumare anche in tranquillità nelle aree attrezzate per la raccolta di questo rifiuto quindi delle sigarette, una sigaretta in santa pace. Quindi lasciamo un po' la libertà di scelta alle strutture di adeguarsi nel modo più opportuno, che ritiene più opportuno e la libertà del turista di poter fumare e comunque sempre appellandoci al buon senso.